Ma non sempre noi abbiamo voglia di rifiorire, di continuare il ritmo della vita, quel ritmo sempre nuovo che a volte ci sembra sempre vecchio. Dobbiamo mettere in conto anche questa stanchezza, questa polvere che si è posata sulla vita e che non siamo capaci di detergere. Quando la polvere si posa sulle foglie dura poco, il cielo prima o poi se ne accorge e manda un acquazzone a lavare la terra e gli alberi nuovamente risplendono di verde lustro e ripulito. Dovremmo imparare a questa scuola a lavarci dalla stanchezza e dalla noia.